Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di SAKRED oggi l'ultima volta abbiamo preso in comunque l'elemento quello dell'acqua da questa fortezza verde che vedete qua giù nella buca e oggi dovremo andare giù al castello dei maghi oggi avremo parecchio da fare di camminata partiremo da Veragnar per raggiungere, guardate un po', le paludi cominciamo col prendere il bel cavallo aumentiamo il volume del TRIPSER e andiamo allora, dobbiamo andare di qui, dobbiamo tornare indietro perfetto intanto se sentite, attenzione qui se sentite in maniera strana la mia voce è perché, attenzione al figlio di Troia qui è perché la stanza è un po' vuota, perché abbiamo fatto le pulizie oh, mo se ci mettiamo ad ammazzare però sti cosi non finiamo più, perché se questi sono i ragnetti più avanti tu non hai idea di quello che incontreremo andiamo avanti evitiamo tutti gli elfi oscuri, perché la camminata che dovremmo fare, micchi cammineremo tra delle cose assurde, mo che ti renderai conto, eh oh no, ci hanno bloccato ci hanno bloccato guarda un po', eh, una roba leggendaria che cos'è, sono per il nano, non c'entra niente con noi questo sei tu, micchi, che fai cadere le robe, diciamo, potenti le robe rare, ecco andiamo perché micchi c'ha la specialità che fa cadere le robe migliori oh no, oh no, mo iniziano i problemi mo iniziano i problemi ce la faremo a evitarli i problemi ah ah ah, saluta gli altri da parte mia a te penserò dopo micchi, mi sa che vediamo, se non troviamo il ponte ecco il ponte attenzione oh merda, oh merda, oh merda, oh merda attenzione umore, che miserevole buco guardate un po', le paluti qui ci sono esseri schifossi ad ogni dove case abbandonate merda, robe strane qui addirittura c'è un'arena che città è questa? che posto è? non sono mai venuto fatemi vedere un po' che posto è? vediamo un po' la mappa che cosa ci dice glomor, ah si siamo andati troppo a destra e quindi siamo finiti nella città di glomor qua c'è l'arena c'è un tipo con una pergamina in testa agenzie per eroi e cacciatori di mostri bene bene, chi abbiamo qui? probabilmente uno degli innumerevoli eroi che valgono vabbè, che valgono per l'ancari in questi giorni io lavoro per la società per le donne di tombe e cacciatori di tesori SPA di mostrare il tuo valore resistente in quest'arena per 5 round ma proviamo resistiamo nell'arena per 5 round proveremo dove entrare? perfetto questo cos'è? maestro gradiatore ora parleremo con te vediamo un po' che cosa c'è qua? ora non ho la minima idea ma non moriremo noi non moriremo vediamo cosa ci dice sto tipo che ne dici di divertirci un po'? combatti per loro nell'arena sei forte, informe e abile a sufficienza noi possiamo offirti dei mostri locali se combatti e vinci riceverai dell'oro se perdi vincerò i tuoi stivali ritornerò pronti eh? oh madonna pesce delle caverne di livello 57 micchi? io sono stordito che cazzo? ok perfetto e ora parliamo con il tipo? vediamo un po' che combattimento? peccato se è finito troppo in fretta lascio e raddoppi ti pagherò ugualmente anche se non usi combattere ancora accettiamo? diventiamo più forti però prima ecco così e andiamo ah di nuovo sono gli stessi però sono di livello più alto micchi tu mi raccomando perché io cerco di indebolirli il pesce è quello più per fortuna mi sono reso conto ok li abbiamo eliminati vediamo un po' cosa dice lascio raddoppi facciamo così accettiamo un'ultima volta proviamo un'altra volta oh madonna se muori vediamo un po' io mi metto la cosa qui io sto cercando di sopravvivere sono troppo forti questa è l'ultima volta che li affrontiamo credo però di aver quasi fatto oh alleluia adesso sai cosa ti dico? se noi ce ne andiamo dall'arena senza prendere il punto esclamativo e vendiamo le cose e torniamo ma vediamo un po' se usciamo cos'è che dice questo tipo? vediamo 5 round vogliono che dobbiamo resistere vabbè c'è il mercante qui? c'è il mercante? è una città? in alto a destra fammi vedere dove ecco beh ti devo vendere dalla roba vado dal fabbro vado dal fabbro dov'è il fabbro micchi fammi vedere dov'è che sta? con tab lo riesco a vedere più a sinistra fammi vedere dov'è di qua ed ecco il fabbro che non ha niente nel suo corso che cosa posso fare con te fabbro allora tu c'hai si tu c'hai io ho questa sfada a cui potrei fare vediamo aumentare il danno e se mettiamo questo aumenta tutti i tipi di danno 28% 302 392 ok micchi possiamo prendere la nostra ricompensa dal tipo dell'arena a questo punto non mi dice proprio niente se praticamente adesso siccome siamo usciti dovremmo rifare tutto da capo ma lasciamo perdere dai lo facciamo un'altra volta intanto abbiamo combattuto un pochettino allora andiamo giù continuiamo per la nostra missione ah qua c'è una taverna c'è comunque vabbè dobbiamo andare molto a a sinistra micchi a sinistra uuu attenzione qua attenzione attenzione qui c'è il portale tu hai interferito con il nostro lavoro nelle telecentrali preparati alla fine prima di sistemarti soddisferò la tua curiosità sta rivelandoti cos'è che vedi il nostro sommo sacerdote Lim Shaddara ha invocato i poteri di un demma di Sakara ma quel passo l'ha lasciato fuggire guida ti ce l'ha lasciato ci ha attaccano questi bastardi figli oh madonna mia che cosa che cos'ha aperto che cos'è questo portale che c'è qui che cos'è madonna che posto è questo dove siamo finiti non sono mai venuto qui non sono mai venuto qui madonna non sai fare di madonna girora esterna abbiamo trovato un posto un posto su di quelli strani segreti che cavolo che posto è questo ma che cavolo che posto è il girone esterno sulla mappa dov'è che stiamo vediamo eh nel nulla ma che comunque dobbiamo proseguire dobbiamo andare avanti dove ci siamo andati a cacciare oggi dove ci siamo andati a cacciare oggi ma che razza di posto è mai questo non sono mai venuto si scoprono sempre cose nuove sotto il gioco una cosa incredibile sono morte assieme guarda è l'inferno si vede tipi impiccati la viverna la viverna ti sta attaccando tutto non te ne accorgi ma non si possono evitare questi c'è una pietra magica qualche cosa siamo riusciti ad uscire micchi cammina sulla pietra impresa completata l'occhio dell'inferno micchi teletrasportati dove sono io control su di me e poi bravo hai fatto con il control o hai fatto con ok ok proseguiamo micchi non funzionava la pietra forse vale solo per uno vabbè l'importante è che uno è riuscito ad usarla micchi andiamo andiamocene da qua dobbiamo trovare la strada non era di qua non ti vedo più micchi ti vedo strano che razza di ti vedo strano micchi non ti so spiegare perché adesso ti vedo bene no adesso non ti vedo più bene è un casino in mano che cosa è sta strada micchi dove sei? tu mi vedi a fianco a me? ah non ti arriva più il cavallo cioè tu chiami con noi il coso non ti arriva ah lo stai facendo apposta non è un bug quindi ti stai spostando così ho capito come mai non ti arriva più il cavallo? boh micchi dobbiamo proseguire per questa strada questi pescioni ciccioni aia pesce delle caverne di sto pelle oh credevo di essere morto credevo di essere morto attento micchi non so quanto manca ma vedo che è morto il mio cavallo no merda micchi vieni qua micchi fai il teletrasporto dall'altro lato del fiume per favore non mi ci vorrà molto tempo per sistemare merda come dovremmo fare adesso comunque faccio adesso il teletrasporto dalla tespe perfetto e abbiamo perso il cavallo abbiamo perso il cavallo abbiamo perso il cavallo ora dovremmo comprare altri eh vabbè non siamo molto lontani ci stiamo avvicinando ho visto già i primi machi mango malvace però sono ti dico un po' a che punto siamo qua stanno dei fantasmi micchi quindi tu basta che mi curi apposto vediamo a che punto siamo ah non manca molto dobbiamo andare a gunno troppo in basso a sinistra e siamo arrivati al castello dei maghi tipo quello di harry potter in poche parole che strano in queste aree grandi so che si aggira un tipo grosso gigante ma non l'abbiamo incontrato ecco ho visto già la torre del castello non abbiamo trovato l'entrata giusta i maghi del fuoco eccola l'ho trovata eccola teletrasportati con me micchi da me siamo quasi arrivati lì credo che ci sia un portale ma più avanti ora tiriamo fuori ah vedi è lui sì lo so avevo appena aperto il portale perfetto continuiamo ad andare giù e guarda caso si trova vicino alle pietre quelle del tutorial del maghi non vi sono altri luoghi più strani e bizzarri eccolo micchi questo è il castello il castello dei maghi e ora dobbiamo andare per di qui avremo a che fare dopo con i con i vari cosi con ovviamente qua c'è lo strego ci stanno gli stregoni che ti permettono di di dargli le rune ecco qua c'è sharifa vieni qui micchi vieni dove sono io che completiamo questa missione sei in ritardo la tua prossima missione ti porterà a shadar nur là devi trovare il quinto elemento e il libro nero di sakkara speravo di creare un'arma da usare contro il demone di sakkara con le forze dei quattro elementi ma mi sbagliavo manca ancora il catalizzatore magico un'essenza che estinguerà la forza profana del demone sembra che il negromante shadar ormai scomparso avesse trovato questo catalizzatore il quinto elemento del vuoto e usasse la sua conoscenza di incantesimi ed esorcismi derivanti dal libro nero di sakkara non appena avrai il libro e il quinto elemento mi troverai con i seguaci di valor al castello di breverock perfetto micchi siamo arrivati ad un punto del gioco che è molto importante adesso in pratica c'è un questo è il castello di misdale a destra del castello di misdale c'è un portale che ci porterà a shadar nur vabbè ora la stalla fammi vedere un pochettino com'è comunque solo 160 in velocità vabbè questo è 160 tra l'altro perché mi esce il corso che non si può mancare il carro vabbè comunque l'episodio finisce qui ragazzi perché la prossima volta attenzione andremo nella torre di shadar quella dove tutto è cominciato e finisce qua questo video non si può mancare il nostro video ma